E mi sto forando tutti i bus. Marco, basta, rallenta, quanti ne hai già presi? Ah, 30. Guarda, guardate cosa pensa, tu puoi far vedere il tuo segreto? Guarda che riba. Guarda, un'ape. Guardate, imitazione di ape da espansi. E un bus dietro l'altro, ragazzi, guardate che bei bassettoni che abbiamo. Guardate che roba, ragazzi, il Big 2 è in forma, aspettiamo tutti i giorni qui al Big 2 anche a Mosca perché qui adesso sono tantissimi amici che vengono a Spinning però i pochi che vengono a Mosca si divertono la faccia perché i bus sono veramente in attività sugli insetti, sulle libellule, su cavallette, api, vespe, tutto quello che cade in acqua che è un insetto loro lo vanno a vedere e molte volte lo vanno anche a mangiare. Quindi ragazzi vi aspettiamo qui al Big 2 solo Mosca e Spinning no kill tutti i giorni dalle 8 alle 20 e che dire, è o non è il lago più spagnettoso di Bologna? Assolutamente sì. È bellissimo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.